Con pane e con piccoli noi ogni dì veniamo qua è il tipo di lavoro che ci dà felicità ed è perché qui sotto c'è di diamanti e d'or una grande quantità è così, è così, è così, è così ci trovate sempre qui dalla baffina a sera siamo intenti a lavorare scadiamo e spicconiamo tutto quello che ci pare troviamo diamanti in quantità e altre gemme d'ogni qualità anche se ne abbiamo da buttare noi seguichiamo a scavare